Il giorno dell'esordio è arrivato. Oggi il primo spettacolo di Saltimbanco, uno degli undici tour firmati Cirque du Soleil. Teatro della prestigiosa produzione canadese, ma con artisti e acrobati di diversa nazionalità, sarà il Palatupparello. Saltimbanco è lo spettacolo più antico, con i suoi vent'anni. Debuttò a Montreal nel 1992 del Cirque ed è diretto da Franco Dragone. Si ispira alla struttura urbana della metropoli e ai suoi pittoreschi abitanti. Ecco dunque i variopinti costumi, le maschere e i cappelli creati su misura per ognuno dei 50 artisti che saliranno sul palco accese da oggi e sino al 17 giugno. Pensate, Saltimbanco ha toccato 75 città di 5 continenti per un totale di 4.000 esibizioni davanti ad oltre 9 milioni e mezzo di spettatori in tutto il globo. Oggi Saltimbanco farà un tappa in circa 40 città, tra queste, come detto, la nostra Cireale. Dal 31 maggio la carovana del Cirque si trova in Riva Loionio con 96 persone, 50 artisti, come detto, e per il resto operatori della struttura. 16 container per portare tutto l'occorrente. Ne vediamo solo una minima parte, tra costumi, luci, attrezzature, palestre ed una sartoria in cui 4 dipendenti hanno tutto l'occorrente per sistemare scena ed artisti. Un intero mondo artistico che viaggia e che ha raggiunto a Cireale. E stasera si va in scena e c'è molta attesa per conoscere tutto quanto questo straordinario salto in banco ci proporrà. Dalle evoluzioni sul trapezio, alla giocoleria, dai volteggi con i bungees, all'acrosport, dall'altanella russa all'equilibrista sulle canne. Tutto con musiche originali in una scenografia allegra e colorata, in un palco lungo 34 metri e largo 20, con oltre 183 metri di travi per sostenere la griglia Acrobati, la struttura e l'impianto luci sopra il palco. La griglia Acrobati è lunga 9 metri e sospesa 14 metri sopra il palco. Non ci sono reti, ma la sicurezza è elemento fondamentale nel SIRC che predispone altri accorgimenti. Esibizioni mozzafiato, dunque, ma senza rischi.